Salve e bentornati su Gamehug in questo nuovo episodio su The Order 1886 dobbiamo inseguire i fuggitivi rimasti che dovrebbero stare qui nella metro e caruccio comunque anche come interni dai a me sta piacendo molto questo gioco vediamo un po' io andrei avanti ok ah devo salire sulla sporcenza giusto ok sapevo che avrei fatto meglio di te ricorda ma quanto mi da fastidio si si intanto stai rianzimando sei stanca no 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 ok ho paura di aver capito l'inizio del gioco però non voglio fare spoiler quindi lo scriverò nei commenti cioè non nei commenti lo scriverò cavoli nel coso lo scriverò nella descrizione del video io la x non è che devo prendere x o si ah si è per schivare tipo ma se gli sparo va bene si ahahah ma fatti sparare cavoli e muori e muori che non ci proviamo più ce ne sta un altro no devo devo eseguire devo fare le eseguzioni che obiettivo sulla mia posizione che cavoli no 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 non devi morire devi correre devi scappare scappa scappa e che cavolo no 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 sto per morire grande no e vabbè bello dai ma mi fanno degli attacchi che non posso schivare io premo x di continuo allora vai fuori no 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 non mi piaci chi è chi è ok ok obiettivo sulla mia posizione sei un tizio brutto e cattivo quanti ce ne sono è uno si ok no sono due ecco perché erano così stronzi cavolo eh lo stavo per fare però no cavolo e dai rialzati ok si prima fanno scelare all'altro su attenzioni un misoglione pesca 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 che è successo gli uccisi quasi tutti l'ultimo è scappato di green mi sembra il tuo folgore Io continuo a seguirlo da sopra voi due tagliate di la strada da lì d'accordo Sali Sali No Dove sta? S'aiuto No Posso andare Ma dove? Non devo salire Bello Non lo perdo No dai Fermati Dove è andato? Signori Mi indicate qualcosa per favore? Andiamo Eh vabbè Bello Sono stato bravissimo Stavo tipo caricando Ok Ok Tutto bene? Sì Sei morta prima però dai Abbiamo neutralizzato la minaccia Bene Sono riuscito a catturare uno dei mezzosangue Ci ritroviamo su region Ricevuto Andiamo Signore Signore che ne facciamo di lui? A Westminster nella catacombe Ci occuperemo di lui più tardi Questo è E' lui E' lui E' il inizio che poi alla fine c'ha Cioè all'inizio Ci dava degli impostori Questo potrebbe rivelarsi di interesse Whitechapel Pure speculazioni ovviamente Io le chiamo prove Le prove indiziarie possono portare a spiacevoli equivoci Caro Sir Percival Tutto sembra portare a una conclusione Ma è sufficiente alterare di un poco Il punto di vista per scoprire che tutto potrebbe condurre alla conclusione opposta Prego Illuminami con le tue riflessioni, commissario Beh, prima la ribellione Poi questo Jack E i suoi omicidi E poi questo Non ritieni singolare che Whitechapel sia diventata L'epicentro di Inspiegabili eventi Dobbiamo valutare Ogni indizio ora Capisci? Il consiglio si riunirà tra due giorni Se ci concedessi l'onore di mostrarci le tue scoperte Verrò volentieri a Westminster Di qua signore Perdonami Dove sei stato? Dannato traffico di Londra Mon generale Cosa facciamo con i mezzosangue e fuggiti per Hyde Park? Dobbiamo inseguirli? No Ma che? Non chassiamo un padello angloso con il nuovo continent Votre temerità sarà richiesta un momento più importante Ok Oui mon generale Seguirò il suo consiglio Sir Percival Converrete di certo con me che d'ora in poi Questo sia di competenza della polizia? Certo Qualcosa non quadra La malavita di Whitechapel è nota per dare rifugio ai ribelli Proprio ciò che mi preoccupa E perché Bedlam è invasa dei mezzosangue? Questo dovremmo scoprirlo di persona Sentito il commissario Doyle è un affare della polizia ora I cavalieri non asservono la propria autorità ai burocrati Percival ha ragione La questione va sottoposta al consiglio Ok Quindi Tipo andiamo a fare Sono trascorsi secoli Ma il nostro ordine è rimasto fedele Del trailer Alla sua sacra missione Infatti guardate come è un po' vecchio Tra uomini e mezzosangue Così Dovrebbe essere sempre lui Re Artù Possa il suo nome Risplendere in eterno È così Ok Così dice la leggenda Oggi Questo equilibrio è minacciato Pericolosamente Da una nuova e fastidiosa pestilenza La ribellione In quando non sarà posto un freno Alla loro campagna di terrore E anarchia La piaga del contagio Lycan Che ha infettato la nostra città Sarà sempre più incombente Il Lord Cancelliere Allora converrà sull'urgenza Della missione a Whitechapel Whitechapel è un problema Delle autorità civili Quando il nobile Artù Si oppose ai tributi Imposti dall'imperatore romano Lucio Non si soffermò Su banali questioni di giurisdizione Non osare impartirmi lezioni di storia Sir Percival Ho vissuto più storie Di quanta tu ne conosca Ricordo ai cavalieri convenuti Che la minaccia a questo ordine Non giunge solo dall'esterno Ma dall'interno Dobbiamo restare vigili e uniti Onde evitare che i nostri ranghi Siano corrotti da coloro Che bramano la distruzione Di ciò in cui crediamo Nessuno è immune All'influsso dei ribelli Di certo il Lord Cancelliere Non metterà in dubbio La lealtà di Sir Percival L'ordine ha sempre apprezzato I consigli di Sir Percival È vero Tutto via questo momento Di disgregazione Impone cautela E collegialità Non certo avventatezza Sir Percival afferma il vero Lord Cancelliere La situazione a Whitechapel Richiede un intervento Lord Darwin parla Con il supporto Dei suoi pari Darwin Ok Lord Esting Lord Douglas Sì certo Lord Cancelliere Forse la questione Andrebbe sottoposta Al consiglio D'accordo Come si esprime L'ordine dei cavalieri reali Di sua maestà Nel merito di Whitechapel Sì O no Sì Il verdetto è no Il consiglio è ora sciolto Perché c'erano più sì Nei sottotitoli L'ordine è troppo esitante Grayson L'apatia segnerà la nostra fine Smettila Sebastian Al diavolo la cautela Sir Percival è alquanto agitato Meglio non intracciarlo Quando si mette in testa qualcosa Per questo episodio di The Order 1886 è tutto Noi ci vediamo fra qualche ora Con un prossimo video Ciao